Vediamo quali sono i motivi per cui non è utile iniziare una terapia di coppia quando il proprio partner è un narcisista o una narcisista patologica. Quando il partner accetta di venire in terapia oppure è lui stesso o lei stessa a proporre una terapia di coppia in realtà ha in mente un piano ben preciso. Cercherà di manipolare il terapeuta facendo passare te per la persona problematica apparirà come una persona calma tranquilla e farà passare le tue reazioni emotive agli abusi fatti da lui come l'abuso stesso. Possono inventare storie tristi sulla loro infanzia per commuovere te e il terapeuta. Potranno cercare di far passare te come il pazzo o la pazza della situazione come quello che deve essere aggiustato o aggiustata. Per un po' potranno anche fingere di essere cambiati, essere diventati il partner che meriti, darti un falso senso di sicurezza per tenerti agganciato o agganciata più a lungo. Ma appena ricomincerai a fidarti di loro torneranno a mostrarti la loro vera natura. Per un po' potranno anche un po' potranno anche un po' potranno. Per un po' potranno anche 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 un po'